Dalle porte dell'autunno alle porte dell'estate, da Ponente a Levante, da Madrid ad Istanbul, inizia stasera il lungo cammino della Juventus che, nell'auspicio di tutti gli innamorati della vecchia signora, dovrà portare alla finale della Coppa dei Campioni, proprio nella prossima primavera, allo stadio Ataturk di Istanbul. Buonasera, gentili ascoltatori, dallo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, buonasera, da Francesco Repice, comincia quindi stasera l'avventura della Juventus, vantaggio per ora zero, la rete è segnata da Juan Quadrado, quella che vi abbiamo raccontato in diretta pochi minuti fa, in terzino brasiliano che va attraverso l'inmezzo, Matuidi ha raddoppiato la Juventus, esattamente al ventesimo minuto, nel corso della ripresa, Matuidi è andato ad incornare il cross di Alex. Fino a come, fino a almeno ha fatto fino a questo momento, attenzione la rete però, con, con, sì il gol, il gol convalidato, il gol convalidato da parte dell'Atletico Madrid di Savic, c'è stato, per 2-1, si gioca il 45esimo, tra 45 secondi si alzerà la lavagna luminosa della quarto uomo ad indicare minuti di recupero da qui a termine della sfida, il cross in mezzo di Koch, e il colpo di testa la rete. Il gol, questa volta, è di Vitolo se non diamo errati, anzi no, Diego Herrera, che ha colpito... Grazie! 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 Grazie!